Ok, e il microfono è aperto, quindi cominciamo a prendere confidenza col mezzo, siamo io e Fabio. Esatto, ciao a tutti, ci troviamo qua all'Ateneo di Parma, in questa grandissima occasione per tutti gli studenti. Vabbè ragazzi, io me ne vado perché Fabio è bravissimo, cioè non c'è neanche bisogno di prendere confidenza col mezzo perché Fabio fa da solo proprio. Bravo, complimenti Fabio, cosa fai nella vita Fabio? Lavoro in fabbrica e purtroppo non è quello che ho avuto a fare. Purtroppo perché prendo i soldi, cioè prendo i soldi e va bene. E va benissimo, e va benissimo. Non è bellissimo. Eh dai, dai, è dura ma sei uno sveglio, si vede. Allora, Sarabanda, ma intanto conosci il gioco Sarabanda, cioè se io ti dico Sarabanda tu ricordi di un Sarabanda di Papi? Ricordo la grandissima ricompata. Oh grazie, no ragazzi, fa tanta stima per Fabio perché, quanti anni hai Fabio? 25. Ah ecco, perché non è diciottenne come quelli che sono passati qua che appena dici Sarabanda, sì ma cos'è? C'è dell'esperienza. Esatto, c'è dell'esperienza, Fabio ci piace. E noi partiamo subitissimo con la prima canzone. Prenotati, mi raccomando. Non lo so. No, mi piace che si prenota e mentre si prenota lui muove la testa e dice no. Va bene. Non lo so, non lo so. Niente, neanche chi canta. Dai, anche lei. Che ti perri. Bravo. E non ho visto il suggerimento. Che ti perri ci basta? Comunque era Friday night, non lo so. Last Friday night. Ok, andiamo avanti. Dai, dai. Stai carburando ma ce la fai. Abc e i progress. Grande Fabio. Ragazzi, Fabio è uno sveglio. Mamma mia. Quanto sveglio? Sveglio. Allora, mi prendo in giro perché essendo siciliana non riesco a dire Gli. Quindi per me è sveglio. Mi amma è di Palermo. Anche io sono di Palermo, ma che bello, ragazzi. Fabio è diventato il mio amico da oggi. Andiamo avanti. Vai, vai. Questa è più complicata. Anch'io ho dovuto chiedere aiuto alla regia. Vieni per basso o non lo so? Bassa. Aspetta che la devo leggere. Vai, vai. Aspetta che è Saul. Giusto, bravo, sì. Ed è Dusty Man featuring qualcuno. Qualcuno di qualcosa, va bene. Esatto, featuring qualcuno. Featuring prova di moda. Andiamo con l'ultima. Oh, non sono i miei generi, questo. Dai. Questa è facile. Allora, dai, l'ho sentito bene. Dai, che c'è tanto adesso parte e ti scateni. Dai, ce l'ho, per onde mi è stata. Dai, dai. Abbiamo tempo. Quanto vuoi. Ah, è sabato di giovanotte. Applausi, applausi per Fabio. E non più applausi per fibra. Siamo sulla stessa lunghezza donna, ragazzi. Va bene. Allora, ringraziamo Fabio. Grazie a voi. In bocca al lupo per tutto. Ringraziamo anche l'accompagnatrice, Fabio. Signorina Elisa, venga qua anche lei. Elisa, ci vuoi salutare Elisa? Siamo mamma, papà, cane, gatti. Ciao a tutti. Ok, salutiamo tutti. Va bene. Allora, grande Fabio. Continua così? A posto. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. 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 Ciao.